Carrozzina da transito con le ruote piccole e carrozzina d'autospinta con le ruote grandi. Per piegare la carrozzina chiudo le pedane e sollevo la seduta con due dita. Per riaprire la carrozzina spingo con i palmi sulla parte anteriore, in modo da rendere l'apertura facile e sicura. In entrambe le carrozzine i braccioli sono ribaltabili. Entrambe le carrozzine hanno il freno di stazionamento per salire e scendere dalla carrozzina in sicurezza.